E' bravo, forza, ottimo, bravo, 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 bravo ragazzi, forza, pausa di 10 secondi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, via, avvicinate i gomiti al gusto, fate ruotare bene i posti, gomiti flessi a circa 90 gradi, basic bounce, quindi saltello in base, rimbalzo in base, saltello, piedità, continuo, bravissima storia, forza, recupero 10, 9, 8, 7, 6